Anche oggi magari gli stimoli potevano essere minori rispetto a una partita che tu hai trovato una salvezza già e due domeniche invece anche oggi la squadra penso che abbia fatto bene, abbiamo fatto bene contro una squadra che in Matese si giocava ancora i play-off e alla fine aveva giocato i play-off, penso che la squadra abbia fatto bene. La cosa positiva è che anche oggi eravamo pronti nel 2005 e poi sono entrati altri ragazzini nel 2005 abbiamo dato anche l'usso a questi ragazzi e quindi penso che abbiamo centrato gli obiettivi. Nella seconda parte voi sapete benissimo che solitamente in campionati c'è una parte, il giro di andata e il giro di ritorno, nel giro di ritorno siamo arrivati quarti in classifica generale e siamo alla seconda migliore difesa del campionato, abbiamo subito solo dieci gol, quindi questi sono i numeri, è una squadra totalmente giovane e sono contento per loro perché la squadra anche oggi ha dato lustro a una città ed è che io di questo sono contento. Io l'ho detto anche l'altra volta, io sono più che contento di stare, poi dopo come dissi la volta scorsa i matrimoni siamo sempre in due, quindi io quello che posso dare, posso dare alla mia disponibilità perché ho una società importante, ho un direttore importante, ho tutta una sede, c'è una città, è una tifoseria importante, quindi penso che in tanti vorrebbero stare qui a Chieti a poter essere il condottiere della squadra così importante e della società così importante. Io posso dare solo la disponibilità perché ripeto, io quello che volevo dire oggi è che volevo ringraziare lo staff, è fondamentale, lo dissi già l'altra volta, non è semplice sopportare me, partendo dal magazziniere che non è il magazziniere, anzi è una parte importante del nostro staff, per l'ufficio stampa, il segretario, io sono stato veramente non bene di più, mi hanno vattato, mi hanno cercato sempre di far lavorare in un certo modo, l'ufficio, lo staff medico, tutte persone qualificate, non era semplice penso all'inizio da parte della mia società partire come si è partito, invece penso che la mia società ha dato poi dopo le giuste motivazioni e penso che siamo stati di parola per quello che erano i programmi iniziali. E se vi devo essere sincero fino alla fine non è che sono del tutto contento, perché potremmo forse arrivare un qualcosina in più, purtroppo dispiace. Mister, credo che una delle maggiori soddisfazioni sia stata quella di aver fatto crescere in questo modo i giovani, abbiamo visto anche nella partita di oggi, Innocenzo, Rossi, lo stesso Serra, che ha abbracciato, che è la passerella, alla fine partita, Bregasi, quindi insomma un po' tutti. Io vengo da una scuola di settori giovani, li ho sempre amati i giovani, perché sono quelli che poi dopo nel tempo vogliono ancora ritagliarsi uno spazio importante del calcio che conta. Noi avevamo dei giovani che avevano bisogno di avere continuità, ma avere soprattutto essere sereni e tranquilli. E penso che sono stati più loro, io ho cercato di poterli mettere in condizione, sono loro che sono cresciuti e sono migliorati. Io lo dirò sempre, quello che è da esempio è proprio Serra, perché il ragazzo dall'inizio penso che in tanti erano scettici qui, dobbiamo essere sinceri. Invece lui con molta professionalità, con molto spirito di sacrificio, in silenzio ha sempre lavorato e penso che alla fine sia per me uno dei migliori profili di questo campionato. Io arrivai il venerdì e la domenica andrei sotto i tifosi, perché non è semplice, l'ho detto la volta scorsa, esonerare un collega dopo una vittoria, quindi c'era molto, molto certissimo. Penso che poi dopo la scelta della mia proprietà i risultati hanno dato ragione, non era semplice, quindi mi fa capire di quando si erano ambiziosi la proprietà mia. E quando sono lungimiranti, hai detto bene, è stato un crescendo, perché nella seconda parte la squadra è cresciuta, forse abbiamo buttato pure tanti punti per la strada, perché quanti volte al 96, al 95, se su piazzate abbiamo preso voi, però con i secoli, ma una volta un vostro collega mi fece una domanda, se mi ricordo forse a portogasco, comunque volevo ringraziare anche voi, siete stati una parte importante per noi, perché voi avete spronato questi giovani e anche quando c'è una sana valutazione, critica, quando si è dall'altra parte giocatori intelligenti, noi l'abbiamo sempre presa come motivazione per poter dare a voi anche a dette lavori qualcosa in più. A me dispiace, perché Giovanni è un giocatore che io davvero l'ho cresciuto, aveva 13 anni con me, quello che dispiace è che ho letto pure io, che ha detto io l'ho chiamato a dicembre, non l'ho mai chiamato, io c'è una società, c'è una proprietà, non mi sarei mai permesso di chiamare io un calciatore, perché c'è un direttore bravo, quello che dispiace è che posso dire che mi è stato dato del perdente e io con molta umiltà, è giusto che sia, sono andato a valutare, a vedere i successi fatti dal mio collega e io spero di non eguagliare i suoi successi, solo questo.